Buongiorno ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto sull'Italia attorno al 20-22 di novembre quando a seguito di un'irruzione gelida proveniente da nord avremo le prime nevicate sulle Alpi centro-occidentali dell'Italia oltre i 1400-1500 metri. Infatti le nevicate scenderanno dapprima sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta oltre i 1400 metri con accumuli fino a 40-50 centimetri oltre i 1800-2000 metri di quota. Poi col passare delle ore le precipitazioni si andranno a diffondere, le termiche si andranno a negativizzare con l'entrata di aria più fredda. Mifiocchi al di sotto degli 800-1000 metri di quota sul basso Piemonte e soprattutto sull'Alta Lombardia. Grazie a tutti.